La leggenda di Romolo e Remo la conoscono tutti, non tutti però ricordano le varie versioni su come i due leggendari gemelli sarebbero venuti al mondo. La madre pare fosse Rea Silvia, principessa di Alba Longa, costretta a monacarsi, avrebbero detto nel XVII secolo, cioè a entrare nel sacro collegio delle Vestali, che avevano, fra gli altri obblighi, la più assoluta castità. A questo la costringe lo zio, usurpatore del trono, per impedirla di generare, mettendo a repentaglio la propria dinastia. Invece la giovane donna un giorno si scopre incinta, pare per l'intervento di un dio, una storia che si ripete spesso. Potrebbe trattarsi di Marte in persona. Queste le poco onorevoli vicende che portano, nove mesi dopo il surreale incontro, alla nascita dei due fanciulli, che il malvagio re, per non correre comunque rischi, ordina di uccidere. Abbandonati in una cesta sulle rive del Tevere, come era accaduto a Mosè, i gemelli si salvano perché le acque si ritirano, e per di più una lupa, scesa assetata dai monti circostanti, li nutre, offrendo loro le sue mammelle. Ma era proprio una lupa? Nella sua storia di Roma, Tito Livio insinua il dubbio che non di una vera lupa si trattasse, bensì di una certa larenzia chiamata lupa, cioè prostituta, nell'ambiente pastorizio, per essere solita vendersi a quelle rudigenti. Sont qui larenziam volgato corpore lupam inter pastores vocatam putent. Alcuni ritengono che questa larenzia, per aver spesso prostituito il suo corpo, fra i pastori, fosse chiamata lupa. Quando gerarchi fascisti pensarono di chiamare figli della lupa, i bambini inquadrati nelle organizzazioni giovanili del partito, non si resero conto, ignari di storie, dell'involontaria comicità di una simile denominazione. I due ragazzi, di non specchiato lignaggio, crescono mettendo in luce temperamenti diversi. Remo è più risoluto e sembra più adatto al comando. Romolo appare fisicamente più debole, però è molto più astuto. Quando si viene alla fondazione della città, Romolo inganna il fratello sull'esito di una sfida. Chi sarà capace di avvistare per primo degli avvoltoi nella Valle Morcia, quella dove più tardi sorgerà il circo massimo. La sfida degenera. Remo si infiamma, provocatoriamente salta il solco che si sta tracciando per definire il perimetro della città, e viene abbattuto dal colpo di zappa di un sicalio etrusco. Eliminato il suo fratello, Romolo, infuriato, avrebbe gridato, sic deinde, quiconque alius transili et meni a mea. Lo stesso accadrà a chiunque altro osi oltrepassare le mie mura. Deriva da Romolo il nome della città? È possibile, ma non certo. Altre ipotesi indicano l'etrusco rumon, fiume, quindi la città del fiume, oppure l'osco ruma, colle. Anche l'origine del nome è incerta proprio come il lignaggio dei due gemelli. Veniamo alla terza fase, poco raccomandabile come le precedenti. Per fondare la sua città, Romolo aveva radunato una combriccola di sbandati arrivati da ogni parte. Secondo il racconto di Plutarco, ognuno di loro aveva portato dal suo paese di provenienza una manciata di terra da gettare nella fossa, chiamata Mundus, scavata al centro del perimetro delle mura. Contemporaneamente, assicura Plutarco, lì vennero gettate anche le primizie di tutte le cose sancite dalla consuetudine come utili e dalla natura come necessarie alla vita umana. In questo villaggio di Manigoldi, un solo elemento continuava a mancare tra quelli necessari alla vita, le donne. Si chiese alle fanciule dei villaggi vicini se per caso avrebbero voluto accasarsi nella nuova città, ma quelle, inorridite, rifiutarono. Per tagliar corto, si ricorse allora al mezzo estremo di rapire le donne dei confinanti Sabini, e in tal modo Roma poteva cominciare davvero a vivere. Ci vuole molto impegno per nobilitare questo fosco racconto di stupri e omicidi. Poiché l'origine divina per opera di Marte appariva barcollante, si pensò di radicare la nascita del nuovo centro in un altro mito illustre, la guerra di Troia, trasformando in qualche modo il dio Enea, figlio di Venere, nel progenitore di Romolo. Ci pensò Virgilio, a rifinire la nuova leggenda, allacciandosi nel secolo aureo di Augusto direttamente a Omero, così creando anche a se stesso per il tramite dell'Iliade una grande scendenza letteraria. In ogni leggenda c'è un fondo di verità. Nel caso di Roma questo fondo dice che le sue origini furono turbolente, quasi certamente per l'aggressività dei suoi abitanti, che si fecero largo con la violenza nel nuovo insediamento, strategicamente collocato il confine tra due culture, l'Etrusca e l'Italica, e all'incrocio di importanti vie commerciali fra la Toscana Etrusca e la Campania Greca.